Presso il giornale degli esperti, la focalizzazione al marketing da non trascurare soprattutto in tempo di crisi, oggi accessibile a tutti grazie anche alle nuove tecnologie. Assolutamente sì, soprattutto in un periodo di crisi. Purtroppo in un periodo di crisi solamente chi è attento a quello che è il marketing, alla comunicazione, sa comunicare col proprio mercato di riferimento, riesce a sopravvivere e a vincere e magari anche a ottenere ottimi risultati rispetto anche agli anni passati. Come si può fare tutto questo con poche risorse e magari con scarse conoscenze? Sicuramente le nuove tecnologie, l'internet, il web e i social network permettono di avere degli strumenti perfetti per fare comunicazione e promozione a costo zero. Poi piccole competenze, piccoli accorgimenti poi magari affiancati da persone competenti permettono proprio di fare quelle mosse giuste per ridare un attimo spinta a quello che è il mercato e la propria attività. Vi sono delle regole base per approcciarsi a questo settore, errori che non vanno assolutamente commessi? Beh, una cosa che si dice sempre ai propri clienti è quello proprio di capire con chi stai parlando, quali sono i tuoi clienti e dirgli la cosa giusta. Questa è una delle cose principali che si dice, per cui un bel database è sapere qual è la tua tipologia di cliente. Insomma bisogna sapere quello che si deve comunicare? Assolutamente, perché se so quello che comunico, so cosa comunicare, lo comunico perfettamente, uso tutti i canali possibili e indispensabili e rischio meno di sprecare tempo, energie e potenzialità. Grazie a tutti.